Tanta bella cosa a tutti ragazzi, bentornati su KM Channel, stiamo per andare a giocare un nuovo episodio della Road to Mastery, prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale e alla pagina Facebook, vi lascio il link in descrizione, che dire, sigla e poi partiamo subito col nuovo episodio. Ah, la squadra non mi piace tanto, onestamente, cioè, buh, vabbè, speriamo bene. Sto arrivando a destra, sto arrivando a destra, dai facciamo subito il gank dopo sei minuti, vai Narbush, dai che lo butto in torre, dai che lo butto... No, ma che sfiga però, dai, dai che è morto, dai che è morto, first blood for me, yeah! Cazzo, cazzo, belica, belica, dietro, belica, 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 dietro, belica, dietro, belica, dietro, belica, dietro! Eh, io scappo, belica, cazzi tuoi, madonna, mamma mia, taglisciato con l'ulti. Uh, abbiamo salvato sia noi che la torre. Basta, Narbush non mi convince con la carica del bruto, vabbè. Non capisco perché mettere la carica del bruto, vieni qua, murdo, che ciao, gioia! No, 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 niente ultimate, niente ultimate, meniamolo, meniamolo. Dai che non mi fa nulla. Uh, mi spingi? No, ma fregato, vabbè, tanto secondo me muore. Se non arrivano i suoi amichetti a massacrarmi, muore, vediamo un po'. Vieni qua, vieni qua, dove vai? Oh, sta scappando, mamma mia. No, devo spingerlo indietro, perché là c'ha la torre lui, devo spingerlo indietro, devo spingerlo indietro. Ok, ok, non ho affatto una cosa furba. Ahi, vabbè, dai, è morto. Sì, vabbè, sei morto, c'è pure i minion che ti sparano, dai, sei morto. Dai che sei morto! Eh, Narbush ora arrivi, vaffanculo. Farmiamo le animelle nella giungla. Uh, mi cresce l'armatura, guardate un po'. Quanto è figa. Uh, che sei carino, solo soletto. Vieni qua. Dai, siamo in tre contro uno. Andate, andate a vedere un po' che sia. Siamo in tre contro uno, dobbiamo massacrarlo. Siamo in tre contro uno, dobbiamo massacrarlo. Bene, bene, la kill è anche mia, così imparate. Uh, Mardok tutto solo in giungla nostra. Cazzo, mi sa che non è tutto solo, sai? Mi sa che non è tutto solo, e non è manco per il cazzo tutto solo. Aiutatemi. Aiutate. No, mi sono chiuso. No, mi sono chiuso. Mamma mia. Perché non sono morto? Mamma mia, ragazzi, mi avete salvato il culo. Bravi. Dai, Narbush, spacchiamo sta torre. Dopo 32 minuti forse possiamo fare la torre al centro. Ci stanno massacrando in torri. Eh, non riusciamo ad attaccarle. Loro difendono molto bene. Arrivo! Gadget sei morta! Sì, sì, fai l'ulti. Fai l'ulti che ti massacro. Bella. Oh! Sto Narbush va giù troppo in fretta. Troppo! Ma come cazzo è buildato? Sei un tank, cavolo. Sì, vabbè. Qua, festa. Festa! Vattene, Narbush, con quella vita. Cioè, mi fa piacere che tu sia venuto qui. Però vattene. Vattene, ma perché? Non si deve far prendere. Corri, corri. Eh, cazzo, cazzo, cazzo. Eh, Narbush, però. Dai, dai, dai. Eh, Rittor, mamma mia. No, c'è il buff blu. Cosa? Ma quando è spuntato Rittor? Guarda, guardate quanto mangia un Narbush. Cioè, non lo so, va più giù. Più veloce di Mardok. Aiuto. Scappa, Mardok. Non ti fermare. Aiuto. Mamma mia, se sopravvivo, cioè, sono il tank della vita. Ne ho 4G. Pure l'ulti di Mardok. Tutto mi hanno fatto. Mamma mia. Aiuto. Mamma mia, mamma mia. Doppia schivata. Incredibile. Uh. Eh, fai, fai mi. Nooo. Brutto, 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 brutto. Mamma mia. Bellica. Dai, sono 3. Per quanto tu possa essere... Sì, vabbè. Quelli hanno l'orb attivo e stanno attaccando da tutte le parti. Da tutte le parti. Eh, mamma quanto male mi fa con l'orb. Mi fa troppo male con l'orb. Davvero troppo male. Dai, no. È morto il Mardok al centro e perdiamo l'inibitore sicuro. Cazzo. Eh, mi sa che la partita è persa male. Mi sa che la partita è persa male. Qua l'hanno fatto. Cerchiamo di difendere almeno questo. Vi prego. Vi prego. Difendiamo almeno questo. Difendiamo almeno questo. Eh, cazzo. Volevo votare la resa, ma hanno votato di no. Perché secondo me sta partita è persissima. Cioè, non so che fare. Eh, no. Niente, niente, niente. Addio mondo crudele. Mi sa che ci morirò anch'io dopo 43 minuti. Forse è la prima morte. Ai. No, mi ha bloccato. No. No. Maledetti. Eh, cavolo. Il nucleo scende velocissimo, ve lo giuro. Eh, infatti. Che peccato, che peccato. Io, tra l'altro, ho fatto una buona partita. 5-1. Però non siamo stati bravi ad attaccare. Abbiamo fatto poche torri. Un peccato, davvero. Hanno giocato meglio loro. Niente, niente da dire. Anche se a kill penso fossimo lì. Il problema è che noi avevamo un Narbush 0-6. Che gli ha regalato 6 kill. Altrimenti loro sarebbero stati a kill pari a no. Ma perché? Che carte ha, Narbush? Ma che carte ha? La carica del brutto full attacco? Velocità d'attacco. Non ho parole. No. Facepalm, proprio. Vabbè, vabbè. Dai, non fa niente. Vediamo un po' i progressi. Abbiamo fatto uno sputo. Proprio uno sputo. Un passetto avanti nella Rotomastri. Nel livello 6. Vabbè, ragazzi. Nonostante la sconfitta, questo episodio finisce qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale. Lasciate un like alla pagina Facebook. Vi lascio in descrizione alcuni link utili. e che dire, tante belle cose a tutti e ciao!